un altro che vuole tornare il barone Zemo il nostro amico Daniel Brühl che a me piace tantissimo che sta presentando una serie Disney Plus dove interpreta uno stilista, Karl Lagerfeld era anche in Italia sì, è andato ospite dal basement di Gazzoli quindi guardatela là perché è ancora bella intervista, mi ha sorpreso perché ha detto come? Brühl sottotitolata e appunto in questo giro di interviste sapete che vengono chieste tante cose e un giornalista di DDDD non c'è scritto, gli ha domandato se dobbiamo aspettarci un suo ritorno nei panni del barone Zemo e lui ci dice quello che segue vi leggo proprio lo scampolo va bene per me posso aspettare sono un uomo davvero paziente però non sono come è che ve la traduco questa? vuoi spararmela e proviamo a no ok dice praticamente non ha ancora ricevuto la chiamata dalla Marvel ma dice che può essere paziente no in realtà non lo sono però è divertente perché nel frattempo ho appena terminato le riprese di una serie che si chiama The Franchise che è una satira dell'universo supereroistico quindi è stato divertente cambiare lato per modo di dire certo sì sì ma conoscendo la Marvel hanno un grande senso dell'umorismo quindi probabilmente lo troveranno divertente quanto me e chi può saperlo non sono ancora morto quindi sono abbastanza sicuro che tornerò veniva allora dato che poi è sempre difficile aveva era stato liberato giusto lui c'era quella post credit dove aprivano il furgoncino lo liberavano ma tornava in prigione tornava in prigione tornava in prigione ok e vedeva l'esplosione del camion che stava portando quegli sfigati lì perché c'era il maggiordomo che aveva piazzato la bomba per lui ma io lo ricordo dietro le sbarre ok ok infatti lì avevano fatto la gabola che se tu vedi la serie oppure no quello comunque è ancora internato ancora là esatto quello che è successo non ha cambiato lo status quo come abbiamo detto lo scudo gli era dato alla fine di Endgame non serve vedere quella roba lì ok ok va bene va bene ok era lì non ricordavo ricordavo il maggiordomo allora ok si trova in prigione ma c'era Alfred che faceva in prigione ma più che altro era la presenza di quell'Alfred lì che mi faceva un po' capire che sto brule volevano ritirarlo ancora fuori sì allora diciamolo parlando denti stretti non ci vedo spazio per il barone Zemo cioè l'unico progetto in cui probabilmente avrebbe senso è veramente Thunderbolts che però negli anni è un po' cambiata è diventato veramente la Suicide Squad contro Sentry probabilmente Sentry che magari sarà messo contro di loro mezzo esperimento tradito bla 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 e con la Contessina che praticamente è la Waller cioè no no venite venite qua poi vi frego quindi dove lo metti poi cioè è ovvio che è un personaggio jolly faccio un esempio a caso Fire Armor Wars a un certo punto fanno evadere dal raft un po' di gente può uscire fuori anche lui un po' alla Batroc cioè è chiaro che è uno di quei personaggi che te lo puoi giocare veramente dappertutto può esserci in Capitan America 4 può esserci cioè a parte forse veramente Fantastic Four o Blade che se mi sembrano robe molto separate negli altri progetti ce lo puoi buttare fuori no? però veramente mi sembra che lo spazio non ci sia a meno che non sappiamo qualcosa perché ovviamente loro sanno più di noi quindi veramente magari in Thunderbolts spunta veramente in Armor Wars decidono di fare un gruppo di cattivi contro un gruppo di buoni cioè chiaramente non sappiamo come stanno un po' spostandosi anche a livello seriale non sappiamo se magari c'è un'altra serie se in Wonder Man il cattivo è il barone Zemo se in Visione Bianco cioè chiaramente cioè parlando per ipotesi assurde il fatto che lui torni mi sembra anche quasi normale se devo restare più su quello che sappiamo sull'idea che mi sono fatto dei progetti mi sembra che il posto non ci sia molto è sicuramente un cattivo amato lui è bravo è sicuramente un cattivo che non è morto subito è uno dei pochi dei Marvel Studios che è riuscito ad andare avanti e avere quello status quo è vero anche che se poi sbucherà il Dottor Destino da qualche parte un giorno anche nella fase 7 ora non sappiamo anche questo Dottor Destino come lo gestiranno magari potrebbero allearsi e fare veramente i signori del male lui Zemo ci buttano dentro Madame Hydra cioè fare veramente una bella squadra di cattivi in quel caso però vuol dire che Bruno lo rivediamo nell'anno del chissà quando perché parlerei veramente di una roba post Secret Wars quindi adesso lo vedo un po' lo vedo un po' così mi piacerebbe cioè se mi dicono che ritorna non è uno di quelli che dico cioè rispetto a un Gaia rispetto a un Abominio cioè diciamo che c'è di meglio temo invece torneranno molto di più loro probabilmente anche solo per una comparsata o per dirci che Gaia ha finito la batteria dei poteri è morta è morta che peccato ci stava molto simpatica avremmo potuto fare grandi cose ma è morta per colpa delle incursioni sono morti un sacco di eroi ecco questo schermo e c'è la foto di Gaia e qualche altro personaggio Sharon Carter sai la come si chiamava il nome in codice ma non lo so guarda evitiamo di ricordarcelo Sharon Carter è tutta una serie di scheri di cui loro purtroppo hanno perso la vita ma gli altri eh sì io sono un po' indeciso perché anche a me piacerebbe ma nell'MCU lui ha avuto sempre una fissazione eliminare i superumani quelli che utilizzavano il siero del supersoldato principalmente in generale gli stanno sulle palle perché hanno distrutto la sua bella nazione eccetera eccetera sì quindi è un movente specifico come lo utilizzi nel futuro dell'MCU è necessario rivederlo io temo che il suo l'abbia già fatto sì poi nulla vieta come hai detto anche tu una comparsata magari per morire oppure e sarebbe bello vederlo perché è una formula che non hanno ancora utilizzato nell'MCU il team di super cattivi eh sì pensateci non hanno mai proposto una formazione di cattivi già visti altrove che si uniscono che si associano e fanno i Dark Avengers o chiamateli come volete ci sono sempre c'è sempre il capo con magari i sottoposti no cioè magari si alleano un attimo Loki Thanos però piccole alleanze c'è una bella squadra dove ognuno poi fa anche un po' per sé magari vuole tradire anche un po' gli altri tipico loro non l'hanno mai tirata fuori ci potrebbe essere però in effetti pensando i progetti che devono arrivare io non riuscirei ad infilarlo tipo tu hai detto Armor Wars ma lui cosa c'entra con Armor Wars no non avrebbe molto senso cioè infatti è molto più legato a Cap tutto quel filone lì poi ovviamente lo puoi riciclare magari ti puoi inventare che lui vuole le armature perché così sparacchia hai super umani ancora in vita sì esatto ho capito lo puoi fare banalmente si può ma c'è qualcosa che mi dice di non aspettarmelo tanto presto o forse di non aspettarmelo proprio più no infatti non so dirvi il perché quale sia il motivo è una pulce nell'orecchio anche questa dichiarazione sì 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 quando dice che non l'hanno contattato io gli credo infatti leggevo magari in Thunderbolts lo stanno girando Thunderbolts no sarebbe troppo cioè allora per carità magari poi fanno il reshoot come l'esposito lo vediamo sul set per carità però anche secondo me non no 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 poi lo so che c'è stato il caso Garfield quindi ormai non crediamo più a nessuno però se non si crede più a nessuno finisce proprio il dibattito la documentazione nulla è valido sul caso Garfield ribadiamolo cioè era un periodo molto dove tutti pensavano solo a una cosa arrivavano i leak e la foto dei costumi e la foto e lui messo così con il green il blue screen dietro no quella scena lì non c'è nei film cioè c'era talmente tanta roba gliel'hanno fatta anche vedere a Garfield mostrarlo quella scena lì lui disse no non è è una vecchia posa che avevo fatto cioè veramente lo bombardavano lui diceva ragazzi no non ci sono cioè era diverso qui non è che tutti dicono oh Zemo 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 a caso gli han detto ma senti ma lui fa ma no guarda non mi han chiamato anzi fa ridere perché sto girando un'altra serie che si chiama con anche il sottotesto poi quello degli attori che dicono parliamo della nuova serie che sto facendo per favore che va bene la Marvel ma quindi insomma anche io lo vedo un po' così poi è comunque un ritorno che gradirei quindi come dire facciano quel che vogliono purché me lo utilizzino bene in effetti perché poi si dobbiamo far tornare la gente per farla morire male subito per fargli fare chissà che figure cioè è un po' come il capo io spero che il Capitano America 4 abbia un bel ruolo perché dopo tutti sti anni il meme non torna mai e la per terra sono tornati tutti tranne lui lui che dice per 13 anni sono stato sul divano aspettare che Kevin Feige mi chiamasse aveva detto per riportare avanti quella trama poi arriva e sarà un coglione siderale e gli dice va bene ok allora io lo dicevo proprio oggi non mi aspetterei granché dal capo anche perché non c'è mezza immagine e non se ne parla mai a livello di trama mai io non mi farei troppe pippe su di lui secondo me farà due robe che scateneranno qualcosa e poi verrà presto tanto gli basta un pugno di capo per stordirlo quindi magari aizzerà lui aizzerà lui Hulk Rosso e le varie cose io credo sarà molto strumentale magari appunto crea questo siero le sperimentazioni già in Shihulk ma lo immagino secondario non principale poi sarà Red Hulk ad avere il predominio poi poi verremo sorpresi Zemo se vuoi tornare a me fa piacere ma non so perché non ti ci vedo rassicurami mandami una cartolina fammi sapere facci sapere Zemo sì altro argomento c'era qualche immagine promozionale ma è tutta roba un po' uscita del capo però uscita proprio malamente siccome come non c'è neanche nelle sorpresine perché evidentemente hanno detto questo con chi cacchio ci mette a giocare infatti che è una roba strana che c'è un po' uscita